Chi sono perso? Chi sono perso? Chi sono perso? I colori che usa Michele sono vivi, vitali, danno il senso del calore e del colore della vita. Nei suoi dipinti osserva la realtà e ne percepisce le caratteristiche visive, le plasma, le interiorizza e le trasmette a chi osserva l'opera. Chi sono perso? Grazie a tutti. La pittura per Michele è intesa come viaggio introspettivo dentro l'uomo, un uomo che rimane affascinato dalla bellezza della natura. I suoi quadri sono una finestra sull'anima, una porta attraverso la quale possiamo andare alla scoperta di paesaggi quasi surreali. Inesplorati se non nella profondità del proprio animo e le calde tonalità usate da Michele conferiscono dolcezza, splendore e bellezza alle colline, alle spiagge, ai paesaggi, alla natura in genere. Lasciamoci quindi trasportare in questa mostra di Michele, ricordando le parole di Leonardo da Vinci. La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede. In Michele, fantasia e intuizione si mescolano in giochi di colorazione. Sono uno spaccato di realtà che nascono dalla vita di un pittore estroverso e imprevedibile. La pittura è una poesia che si sente, la pittura è una poesia che si sente,